Con il risultato di boffaio, poi è Tifat e ora è passato, non un giro! Esce di un metro e mezzo, la colpa è del guardaline, l'arbitro si scusa comunque, non l'ho visto, dice, anche se sembra impossibile. Unica consolazione, l'errore non ha influito sul risultato, la squadra di casa era già ampiamente in vantaggio.